Nel suo discorso toccante, Silvia ha aperto il suo cuore e condiviso le preoccupazioni che hanno segnato il corso della loro relazione. La sua sincera testimonianza ha suscitato empatia e un profondo interesse tra il pubblico, poiché la coppia, fino a quel momento, era apparsa unita e felice. Prima di continuare ricordati di iscriverti e attivare le notifiche per non perdere i nuovi contenuti e per sostenere il nostro lavoro. Il tuo contributo è prezioso, grazie di cuore. Silvia ha gettato luce su una sua paura persistente, il timore che il suo compagno, Pier Silvio, potesse sviluppare un interesse per un'altra donna, nonostante l'amore profondo che entrambi si professano. Affrontando apertamente questa inquietudine, Silvia ha generato ancora più empatia e curiosità tra il pubblico. Ha sottolineato con forza l'assenza di prove concrete di un tradimento da parte di Pier Silvio, evidenziando la lotta interiore che sta affrontando. Le sue parole hanno profondamente colpito molte persone, inducendole a riflettere sulla fragilità delle relazioni umane, anche in apparenza perfette. La coraggiosa e sincera condivisione di Silvia ha toccato il cuore di numerosi spettatori, che le hanno inviato un'incredibile quantità di messaggi di incoraggiamento e speranza per il futuro della loro relazione. Questa testimonianza segna un nuovo capitolo nella storia di Silvia e Pier Silvio, e il pubblico rimane in trepida attesa per scoprire come si svilupperà questa toccante vicenda.